Ciao a tutti, adesso è ben arrivato nel mio video su Minecraft, siamo qui su Minecraft, io sono preso una mia offre e adesso devo presentare, però, come leggete dal titolo, lo stemma di YouTube. Ma di tutto devo cercare, ma da dove? Dove sei? Allora, ritorniamo, ma facciamo qua, molti punti, che non so, qui? Facciamolo. Ma tu lo mandai lì, te lo faccio prima, se lo faccio anche io. Ditemi dove farlo nel collezio, no, qui è troppo triste, secondo me. Voglio, qua, qui è una zona perfetta. Ok, la tela, ok. Perché dove? Allora, ho lì, è tutta scattata, ovviamente, è più complicata, eh? Ah, mi dà fastidio quando io mi dà fastidio, proprio la mia, immagino. Quanto stiamo facendo, mi? Ci beveva molto tempo, va bene. Andiamo tutti a concentrarci con la fastidio, quindi... ...per bacio con il mio uffio. Quanti buchi stai facendo, mi? Ok, sappiamo, non questo, ma questo. Stiamo tutti i buchi, da un consiglio. Credo che poi lo toglie altre facce, che lo toglie solo quattro, in senso che devo farmi tante facce. E' pieno di buchi, quanti cavoli di buchi ho fatto, un bucoglione. Comunque, quando io vi dico di scrivere i commenti, voi non lo fate, cosa mi fa sobbiano? Non mi piace, scrivetemi nei commenti, però cosa dovete fare, se no non vi posto un altro video, che dove farò? Quello, quali molto speciali e divertenti. Forse lo farò. Se ci riusci ora. siamo E voilà! Aspetta, ho il fianco... Oh! Mettiti! Aspettate un secondo... Ok! Mi sono detto amato di fare una cosa! Non volevo metterla! Ok, tengo l'ultima faccia qui... Il fianco... Il buchi che faccio? Ho sparso tanto la zona... Anche tanto, molto tanto! Ok... Fatta! Ora niente, adesso prendiamo i materiali Per fare lo tema di YouTube Vediamo che materiali prendo... Allora, dov'è? Allora dov'è? Rosso? Vediamo se è veramente rosso! Mmm... Mmm... Non mi sembra rossa questo! Questo è che rossa! Questo è decisamente rossa! Ok, iniziamo... Per prima e dopo nel nero! Nero... Prima dobbiamo fare l'altezza della stemma... Ovviamente... Ha dimensioni... Abbrinorme... Enormi... Non so... Tipo così... Mi sa che cosa è girato? No... Non so... Non troppo... Aspetta che c'è più... No? Scusa, non sta bene? È un'illusione ottica! Allora... 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 E metti! Ok! Due! Tre! E quattro! Scrivete nei commenti che lo dovete fare, sembra ossidiano un po' scuro, ma non mi sembra nero, vabbè, però da lontano si è nero, ma siete vicini o no? Non so come vedete voi, però a me non mi sembra nero, guardate, c'è viola, nero, no, viola, viola, ma è viola, non è nero, c'è scritto nero, però sì, da lontano si è nero, magari, vabbè, vabbè, non ci fuggiamo, eh, direi che sta diventando bene, mettiamo così, da così, mi sembra che c'è il vuoto, se c'è un buco profondo nero, c'è nulla, un tasto, ok, non so se faccio in un altro seato, sì, meno che lo faccio, non lo so, o scrivete nei commenti che si non lo so, perché da vicino sembra tutto sottocolore, cioè sembra rosa, non boh, fucsia diciamo, aspetta, ma che cosa sta diventando, è rosso, aspetta, ma io la poso qua è giusto? ma sì, no, c'è l'altro tutto, andiamo, uno, due, ok, la prima, lì, tutto, l'altro, tutto, tutto l'altro, poi faccio un buco, un buco all'esterno, e mi fa una filata, boh, no, andiamo sempre a me, minuti, ho spostato la telecamera, ditemelo, non la voglio, spostato la telecamera, perché ci ho messo un sacco di minuti per spostarla, cioè per smetterla per spostarla, ok, tutto rosso, poi in mezzo, più o meno, qui, 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 facciamo il bello, di youtube, mmm, lo faccio un quartzo? Sì, un quartzo, mi piace, un quartzo è molto bello, molto, molto, molto bello, no, fa un po' che dai, credo, mmm, cosa non va a messo? Aspettate, mi aiuto, oddio, così? Aspetta, devo buttarlo, se no, faccio così, boh, faccio così, sì, 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 alleluia, no, c'è un problemino, no, oddio, che cagata, aiuto sono un po' in pericolo ragazzi mamma mia, mamma mia, aspetta la terra se io faccio così non sei ma non sei mai di youtube ah no ma che... devo fare un po' più alto oddio oh no qualche bloccato c'è schifo scendo queste partizioni voglio solo qualche bloccato giusto un po' eh come così un po' pochino ci siamo così no ok e adesso credo è mizera quanto cavolo ho fatto sto orto mettiamo qua e facciamo la stemma stiamo cadendo stiamo cadendo allora vediamo ma mai credo che sia alto come prima forse così fatto però il problema è che devo fare un po' più in qua qui e qui e qui dopo ok mi sta venendo per il blu dai che viene bene che viene bene ce la puoi fai io mi prenderò sempre se riesco a mettere il suo blocco wow ok bello bello ma adesso è lo tempo di lo stemma di youtube nevo 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 è il colore credo che non sia youtube credo che lo stemma di youtube dentro non è nevo ma è rosso però boh credo che è bello nevo dentro più bianco fuori cacca dai nevo meglio rosso no tutto bianco tutto bianco tutto bianco aspetta se c'è se c'è non fanno questo bianco ecco prendiamo qua oh meglio 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 questo è bello questo è decisamente più bello ragazzi che è carino qua che bello ok adesso va bene scrivete nei commenti che altro temo che altro facciamo qual è il suo disco e niente 1 2 8 sai cosa fai i contoni neri credo che ci sai i contoni neri ti sai proprio bene cosa mai se non è bello un conto amore ok ok ho finito no no devo alzare di 1 ok ok allora il mio qui lo lascio però prima stai faccio ok oi olè insieme a youtube ho fatto no non ho fatto da niente non credo che l'ho fatto fatto e niente è venuto molto bene questo tema di youtube e devo essere molto sincera mi piace mi piace poi un altro video però se ci riuscirò la scritta del mio canale fredic2008 con sotto sistema di youtube c'è credo dalle non mi spoglio però prima niente nevo questi zombie e si cose schemi mosse diciamo quando sta sfogando il diamante tu muovi male anche in fretta e un video faremo senti non mi dico cosa perché sennò mi spogliono e non dovete sapere e non lo dovete sapere se lo sapete se lo volete sapere mettite 10 like iscrivete al canale e niente comunque come stavo dicendo 10 like mi raccomando poi aspetta l'ultima cosa prima di chiudere il video tutto tutto strumento nel video di fifa siamo raggiunti 9 like e questo mi piace e tante views e continuate così mettete 10 like iscrivete al canale ricordate io sono freddic2008 e niente alla prossima ciao ciao